Noi sfioriamo in Regione Lombardia i 10 miliardi di fondi e risorse non spese in questo momento. Cioè ci sono problemi molto significativi che i cittadini lombardi hanno davanti ai loro occhi ogni giorno, liste d'attesa, trasporto pubblico regionale inadeguato e tanto altro, e Regione Lombardia che non impiega le risorse che ha. Noi chiediamo alla Giunta di lavorare perché abbiamo l'impressione che Fontana e i suoi assessori siano immobili in questo momento. Ciò riguarda alcune grandi necessità della Lombardia in relazione al tema delle liste d'attesa in sanità. Siamo a un punto morto, mentre sappiamo che c'è una guerra dei lunghi coltelli sulla lottizzazione dei manager. Sul tema del trasporto pubblico regionale, l'unica cosa certa è che l'amministratore delegato di Trenord prenderà il 20% in più dell'emolumento rispetto allo scorso anno e sul piano della realizzazione delle infrastrutture. Ci sono infrastrutture chiave del nostro territorio, della nostra regione, al palo immobili con Regione che non fa niente. Avete già pronti degli emendamenti vostri? Noi certamente continueremo l'azione dell'opposizione che già in questi mesi si è intensificata per smuovere la Regione, la Giunta regionale e in occasione del bilancio, discussione che si aprirà a breve, certamente arriviamo, arriveremo con proposte che abbiamo oggi sul tavolo pronte, ma qua il problema non è quello che dice l'opposizione, è quello che non fa la Giunta regionale, perché siamo davanti al fatto che i cittadini lombardi non hanno concretamente le risposte rispetto alle necessità, ai problemi di ogni giorno. Siamo al paradosso che rispetto al cosiddetto PNRR Lombardo, annunciato in Pompamagna anni fa, è stato impiegato l'11% delle risorse e il rischio che ci troviamo davanti, stando ai dati che ha dato oggi Regione Lombardia, è che verranno tolte soldi alla sanità per fare delle rotonde nell'ambito della nostra Regione, perché i progetti del cosiddetto PNRR Lombardo, sotto la totale responsabilità della Regione, non sono effettivamente eseguiti. Una cosa davvero preoccupante.